sempre con Tiziana Buongiorno Roma, una serata una serata assorta anche per te non una delle tue migliori serate siamo arrabbiati, siamo arrabbiati non ci sono scuse bisogna ripartire guardarci in faccia e dimostrare che non siamo questi assolutamente stasera veramente non ci sono scuse Cosa è successo? Ci è mancato tutto questa sera ci è mancato tutto scuse non ce ne sono è un po' di stanchezza dopo 5 partite 5 partite in 15-20 giorni non è facile fine campionato sicuramente non è facile però sicuramente non vogliamo trovare scuse adesso andiamo in squadra dove ci guardiamo in faccia e analizziamo tutto Va male ancora di più pensando a cosa significano queste sfide per gli italiani che vivono qua assolutamente ci dispiace assolutamente per i tifosi per quello che hanno visto e qualche occasione l'abbiamo vota ma non va bene adesso analizzeremo tutto e insieme ripartiremo è stato un episodio insomma in cui anche tu hai qualcosa da farsi assolutamente abbiamo fatto tutti degli errori questa sera sul 4-0 potevo capire la situazione e buttarla via però e su quello sicuramente dopo gli errori si cresce e adesso bisogna solo guardarci in faccia poi riposare e ritornare ed essere ancora molto più forti di questa sera quello che colpisce però non voglio inferire non è la prima volta che ti capita questo tipo di incertezza come è capitato? e vado avanti con la testa alta e ce l'ho sempre fatta e la tarea colpatera hai parlato di dagli errori si impara quindi è solo per te sì sì certamente te l'ho detto io a te dagli errori si impara e mi hai detto che non è la prima volta quindi penso che volete fare ancora questione sugli errori però va bene così grazie grazie a tutti una pubblicità poi torniamo qui